I disagi degli abitanti della Presila Cosentina per la carenza dei servizi di trasporto pubblico sono stati al centro di un dibattito organizzato a Rovito dalla locale sezione del Partito Democratico. Introdotti dal segretario PD Rosita di Napoli, i lavori dopo il saluto del sindaco Felice D'Alessandro sono proseguiti con le relazioni del direttore delle ferrovie della Calabria Giuseppe Lofeudo e con l'intervento dell'assessore regionale alla mobilità Roberto Musmanno. I cittadini lamentano l'alto costo per il trasporto pubblico e la esiguità dei mezzi a disposizione, vecchie problematiche che dovrebbero essere risolte dalla riorganizzazione dei servizi predisposta dalla regione. Stiamo lavorando sotto il profilo tecnico per poter definire quelli che sono gli oggetti che metteremo a gara per l'affidamento dei nuovi servizi di tipo automobilistico, gara che siamo impegnati e protesi per far partire entro la fine del 2017. L'unica possibilità che noi abbiamo per modificare l'organizzazione dei servizi è affidare nuovi servizi attraverso una gara. Questo è un momento storico per la nostra terra a cui noi arriviamo dopo anni in cui noi non abbiamo mai fatto una gara nell'affidamento dei servizi e questo significa poter soprattutto avere una nuova riorganizzazione.